C'è il ragazzo dentro, c'è il ragazzo dentro ancora, c'è il ragazzo dentro, c'è a me, a posto, pronti? Guardate, il controtempo sopra il raro, Jack Russell va in vantaggio attaccando Robustella all'esterno flemmatico in Rio Magno. Hanno fatto una bella frazione questi davanti, con Jack Russell, flemmatico Rio Magno, poi Robustella, gol dell'Acclamation all'interno Cavenago, all'argo Alboresi, poi sopra il raro, in coda, zitto, zitto. Flemmatico attacca Jack Russell a traguardo molto lontano, Robustella, gol dell'Acclamation, hanno di fuori Rio Magno che si trascina Alboresi, poi sopra il raro, in coda, zitto, zitto e in corda Cavenago. Flemmatico ha superato Jack Russell, mentre gol dell'Acclamation e Rio Magno sono lì, insieme al sopra il raro con all'esterno Alboresi, poi Cavenago e zitto, zitto, quando siamo in dirittura, flemmatico Jack Russell, poi Rio Magno con all'interno Golden e sopra il raro, all'argo di tutti Alboresi con flemmatico attaccato all'argo di tutti da Rio Magno prima e poi Alboresi di dentro da sopra il raro, si scatena all'interno sopra il raro all'attacco di flemmatico e passa in vantaggio sopra il raro, Jack Russell all'argo, Rio Magno e Alboresi, poi gli altri capeggiati da gol dell'Acclamation, sopra il raro e in vantaggio su Alboresi che ci crede e ci prova, sopra il raro, in vantaggio su Alboresi, nel finale, sopra il raro, Alboresi, Rio Magno. 7-8 sopra il raro, Alboresi, 7-8 per la terza moneta, Rio Magno 5, a precedere Jack Russell e Golden Acclamation. Luca Sorbino, le sue incursioni, c'è sempre il numero uno, direbbe un mio carissimo amico.